E' il People's Poker Tour, il tour più eccitante di tutti. Quello con il monte premi più alto. 3 milioni di euro. Quello con più giocatori. Oltre 3.000 players. Quello con 6 tappe nei casinò più esclusivi d'Europa. L'unico che ti porta alle World Series of Poker di Las Vegas. Vuoi sapere di più? Allora vai su PeopleSpoker.it, scegli la tua skin tra le 150 del network e gioca. People's Poker Tour, la sfida comincia online.